Ma rifalla, rifalla, vediamo dai, vai, brava, vai Cree, vediamo il Cree, Mizzega, che campione, vai Chiara, vai, Mizzega, Kiki, Chiara, chiama Laura, e chiama a casa, Chiara, chiama a voi, Chiara, dico io mamma, io mamma, c'è un rotolone, eh, Chiara, aspetta che lì sbatti, attenta, attenta, lì no, lì sbatti, spostati lì, aspetta, Chiara, vai, aspetta, aspetta, prima Chiara, Chiara, io ho il rotolone, vai il rotolone, chiamo il rotolone di Cree, non lo spingere, Chiara, guarda, guarda, mi mamma, vai, Mizzega, un rotolone, spinta Chiara, chiama il Cristian, Chiara, Chiara, chiama il Cristian, vai, 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 bravo, 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 tinta pazzoide, Mamma, 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 cosa c'è? Non ti vengono più le capriole? Fai, 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 uno, due, tre, Chiara, guardami, così, Chiara, le capriole, così si fanno, Tenta, attenta che lì cadi, Chiara, lì no che cadi, lì no che cadi, Chiara, guarda come sono, le capriole, ma Chiara tocca a te, Tocca a mamma, uaah! Fate ciao che spengo, ciao, ciao, Chiara, fai ciao anche tu, e poi diciamo fine, 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 ciao, ciao, alla prossima!